Ecco la seconda parte della nostra serie di super dettagli. Una scelta che non è passata inosservata, decisamente differente da quella di Francesca Chillevi che dal suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare e salutare le persone che l'hanno seguita. L'ex Miss Italia che ha interpretato la giornalista Viola Vitale, si è cimentata in un post in cui scrive che quelli trascorsi sul set di Viola come il mare, sono stati dei mesi incredibili. Ancora più incredibili sono state queste ultime settimane settimane in vostra compagnia, ogni puntata è stata sempre più emozionante e questa sera siamo arrivati all'ultima, scrive Francesca Chillevi sui social. Un post dove, tuttavia, non viene affatto menzionato Gianni Amman, il suo compagno di avventura non viene citato nel messaggio di ringraziamento e non è stato neppure messo tra i vari tag social che sono stati inseriti sui. Insomma, il mistero si infittisce sempre più, complice anche il fatto che proprio nei giorni scorsi i fan hanno notato che Ken e Francesca hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social.